Ben ritrovati in una nuova pillola di podcast. Chi è Abiy Ahmed Ali, il nuovo Nobel per la pace 2019? Tra poco lo scopriremo insieme. Intanto vi ricordo di seguirci su tutti quanti i nostri social, Facebook e Instagram. Ci chiamiamo at ilpodcast, di seguirci su TikTok, sempre at ilpodcast, e anche di iscrivervi al nostro canale YouTube lasciando anche un bel mi piace sotto a questo video. Perché no? Il premio Nobel per la pace 2019 va ad Abiy Ahmed Ali, il premier etiope, promotore dello storico accordo di pace con l'Eritrea. Lo ha annunciato oggi il comitato per il Nobel norvegese ad Oslo. Pensate che Ahmed Ali ha 43 anni e guida l'Etiopia dall'aprile del 2018. Si è dichiarato onorato e felice di aver ricevuto il Nobel. È un premio assegnato all'Africa. In politica estera Ahmed Ali ha firmato la pace con l'Eritrea, ponendo fine, pensate, a un conflitto che durava da 20 anni. È riuscito a rendere più semplici le relazioni con tutti i vicini e mentre invece in politica interna ha deciso di liberare i prigionieri politici e riallacciare il dialogo con gli oppositori in esilio. Come primo ministro ha anche cercato di promuovere riconciliazione, solidarietà e giustizia sociale. Barry Trace Andersen, capo del comitato norvegese dei Nobel, che conferisce il riconoscimento per la pace, spera che il premio per la pace rafforzi il primo ministro Abiy Ahmed nel suo importante lavoro per la pace e la riconciliazione. Un'Etiopia pacifica, stabile e di successo. Avrà molti effetti collaterali positivi e aiuterà anche a rafforzare la fraternità fra le nazioni e i popoli della regione. Insomma, noi siamo veramente, veramente felici che questo premio Nobel vada ad Abiy Ahmed Ali in questo 2019. Alcuni avevano ipotizzato potesse andare a Greta Thunberg, però insomma il premio Nobel è finito nelle mani di Abiy Ahmed Ali e non potremmo che esserne più felici. Io vi ringrazio per aver ascoltato anche questa nostra pillola di podcast. Vi do appuntamento a lunedì, sempre alle ore 15.30. E vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social e di lasciare un bel mi piace e un'iscrizione gratuita a questo video. Ciao!